No, è il corvo. Come fa il pedistrello? Vai cazza! Come in prezzo? Cazza di che è matto! È l'unico che lo fa, la voce del piede. Vai cazza! Proviamo anche noi dopo. Ma se sono talmente contratto che se faccio una roba del genere mi spezzi. Spezzi in 14 pezzi, muscolo per tutto. C'è talmente tanti muscoli che cazza non ha. Tutto qua cazza? No, no, aspetta, aspetta. Ma c'è la cellula. Non è la pena, va bene. Stammi alle gambe. Non hai più le vene nelle gambe cazza. No, ma questo qua non ho. Questo. Oddio! Opla! Cazzacca! Sciocchi! Vai ragazza, niema! Ecco perché è numero uno! Vado cazza! Mauro! Mauro! Cosa fa? Quattro! Ottissime! Non è cosa che ci sia successo a questo? Quattro!